DRIM DRIM Oh ma chi è? DRIM 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 Chi è? Adesso tu verrai con noi Perché? Che ho fatto? Eh lei deve venire Non mi interessa venga Il mio collega mi ha detto Così Non mi faccia arrabbiare Guardi cosa ho in mano Va bene Ecco E dove sta la centrale di polizia Di là Di là Perché mi avete messo Questa roba di fuoco Perché lei sta stendo sotto Un interrogatorio Con poche precauzioni Un interrogatorio proprio al 100% Mamma mia La stiamo facendo lessare come le patate cotte Perché cosa dovete chiedermi Sentiamo Io non lo so Lo sa il mio collega Io me ne vado Ieri sera Ieri sera ero a casa A fare che cosa A A dormire Cosa dovrei fare Davvero 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 era a casa A dormire Lei Sì sì Davvero era a casa A dormire E chi ci dice che non stia Dicendo una Pandonia Faccio un'altra domanda Che cosa ho sognato Ho sognato che la scuola Che la mia scuola Veniva fatta esplodere Da questa E da chi Da me stesso Lei è colpevole Ma come sono colpevole Ma come sono colpevole Lei è colpevole È stata lei a far buciare la scuola Adesso la sottoporremo a varie torture Di vario genere Fatto da me Non mi lasci mai divertire Voglio ucciderlo Non abbiamo mai ucciso un prigioniero Sono arrabbiato per questo Allora Lei verrà incarcerata per quello che ha fatto Ok va bene Dico la verità Non l'ho sognato Ma l'ho fatto nella realtà Allora bene Venga fuori Si faccia fare le fotine E vada a morire No Mi faccio gli scherzetti Tu non sistema questo casino che hai fatto Ah mi sei rotto I giri di lato E bene Adesso vada dentro E mentre che io mangio la fotocamera Entri Da qui non riescerà mai più In quale cella vi dovete portare? In codesta Aspetta C'è già un signore dentro questa Ah qui ci sono Come vedi abbiamo incarcerato due lama Hai un signore che è bloccato Ancora? Ancora Questo è il piano di massima sicurezza Ci sono io come guardia Ancora? Lei può capire perché All'ultimo piano ma perché? Perché io sono la guardia dell'ultimo piano E quindi il mio collega si fida di me A quale devo andare? E' perché io ho il tritolo Scusa Dobbiamo mettergli un contenuzzo di cella Ti dici Forse C'erano i due lama giù Prendiamo i due lama Collega vogliamo andare a mangiare le ciambelle No io ho il turno di guardia No io ho il turno di guardia Ah ok Quindi dopo ci andremo Ok Certo Dov'è venuto il prigioniero? Quel male Per riuscire l'aria Via 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 Dobbiamo sguinzagliare i gatti No i cani Ho sbagliato Io ho troppi gatti Ho pochi gatti Di che stanno parlando? Ok Scappiamo scappiamo Collega Dobbiamo andare alla ricerca Del Del maledetto Ok andiamo Meno male che mi ricordo dove è la città Non città A casa mia Sguinzagliamo le piante Diciamo che stanno veramente Stanno veramente lontano Stanno veramente lontano Devo sguinzagliare Collega Devo sguinzagliare la mia arma segreta Allora Vediamo se riesco ad arrivare Collega Quinta volta Devo sguinzagliare l'arma No non ancora Abbiamo Le armi Ripeto Le armi Mi scusi Ok 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 porca miseria Poliziotti non mi Piante Arraccolta Sembra che non mi stanno neanche seguendo Piccola cipolla volante Piccola cipolla volante Cerca lì dall'alto Soia Individualo Ghost pepper Pedinalo Mastica zombie Se lo vedi Magnalo Ok ecco la casa di Danny Ci sono quasi Va bene Porca la miseria Mamma mia Che Che scappata Che ho fatto Cioè Meno male che non mi hanno neanche sequestrato il piccone Il telefono Mamma mia Però adesso possono ritornare a casa mia Da dove l'hanno preso Meglio che È meglio che mi riparo da qualche altra parte Provo a scavarmi un bunker e E resterò lì per un po' di tempo Affinché i poliziotti si potranno scordare Non lo so Però adesso devo scappare Devo scappare male Collega Che ne pensa delle mie armi segreti? Stanno mi sbigliando Vuole che mando il mio drone alla ricerca così La mia masticazombici sottoterra e va a cercarlo Oppure vuole che lo mortaio dall'alto O preferisce creare Creare cloni che lo uccidono Qual è la tacita che lo preferisce? Qualcosa di più furtivo Andiamo a piedi Che ne dice? Quale vuole? Quale dice? Controlliamo le varie case Dividiamoci Secondo qui non mi troveranno mai Ok Speriamo che non mi trovino Mamma mia Mamma mia Speriamo che non mi trovino Oh porco Oh porco C'è Frost qui Ok Ok Frost sta andando di là Tutto a posto Il Fedex Neanche lo vedo Non so perché Ma c'è Frost proprio Qui vicino Sta qui comunque la casa di Pietro Paolo Sotto la casa di Alto Allora Mare in Alto Premio sull'alto Scappa via Scappa via Scappa via Oddio No 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 Ok No da Adesso sono veramente spacciato Ma hanno tolto il piccone e il telefono Adesso c'è soltanto del pane e dell'acqua Mamma mia In che situazione mi sono messo E tutto perché volevo fare esplodere la scuola Che è anche un grave reato Voi compagni di cella come vi chiamate? Alfonso E tu? Alfredo Ha proprio Grande fantasia Entra i nomi Eh Si sa Loro due sono già belli E scusi E scusi E glielo dici adesso? Si Zitto Naso lungo Vabbè 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 Ragazzi Per oggi è tutto Stasera il roleplay Sta andando sempre più alla pazza Cioè D'ha addirittura messo in prigione Io Io vi saluto Tanto mi mangio Mi bevo sta roba Le persone che saluto oggi sono Frost e i Redex Che hanno commentato L'ultimo video Almeno questa roba L'hanno fatta Di Fedex Da Infiltrator È tutto Ci vediamo domani Con un prossimo video È bello sentire le tue riflessioni Carceliato Vabbè Quello la Mi masturba Mi masturba male emotivamente Da Infiltrator È tutto Ci vediamo in un prossimo Video Forse Al fuoco